Ciao ragazzi, Sir Sark and Bellavie, benvenuti a un nuovo video sul canale Bellavie e volevo fare un video sulla partita ieri Genoa-Napoli come sapete i campioni d'Italia sono stati ospiti a casa dei Grifoni è una partita interessante da vedere, no? perché comunque il Genoa è una squadra che per campagna acquisti è ambiziosa, diciamo ha come obiettivo quello della permanenza in Serie A e il Napoli sono i campioni d'Italia era interessante vedere questa partita Girardino è partito con il 4-4-2 con Martínez, De Winter, Bani, Dragosin, Martin, Sabelli, Baderi, Strootman, Frendrup, Gusmusson, Rettegui risponde Napoli con il 4-3-3, Mario Rui, Joan Jesus, Ostigard, Di Lorenzo anche il Salobot, Kazerischi, Varasteya, Ossimen, Elmas sulla destra Elmas che succede? Succede che naturalmente il Genoa l'ha messa sul piano fisico quindi si sono barricati dietro andando a cercare sempre l'uno contro uno cioè andando a marcare sempre il portatore di palla a duplicare le marcature sul marcatore di palla e quindi niente, si sono barricati dietro dando poche possibilità al Napoli di perforarli facendo una partita molto fisica sempre una partita al modo loro cioè abbastanza picchiatori falli al limite e hanno trovato comunque per tutta la partita un arbitro come Fabri molto connivente con questo modo di giocare un po' rude che c'è al Genoa soprattutto negli uomini di Dragosin Sabelli, Strootman Badelli, Bani, sono dei picchiatori gente che palla a uomo tutta la partita e Fabri, insomma, un arbitro che conosciamo bene chiuso un po' mi dispiace che non ci siano molti commentatori napoletani che ancora non lo dicano ma forse ieri nei commenti a caldo erano un po' disorientati da questo pareggio con una neopromossa sebbene un'indicazione del fatto che abbiano pareggiato alla fine ci arriveremo quindi c'è anche questa positività ieri che sono riusciti a prendere un pareggio isperato da campioni quali sono e che succede? che questo gioco di corazzarsi dietro di duplicare di fare sempre il fallo al limite e l'arbitro che spesso e volentieri non fischiava nemmeno dei falli netti del Genoa Dani del Napoli sono riusciti a passare in vantaggio alla fine del primo tempo con Bani cosa fantastica per una squadra come il Genoa sono riusciti a passare in vantaggio con una ripartenza una distrazione lì davanti del Napoli e naturalmente la strada si è fatta più facile perché giocano una partita fisica fra falli non fischiati di marcature a uomo triplicare e duplicare la marcatura sul portatore di palla hanno dato al Napoli poche possibilità e infatti il Napoli ha iniziato a perdere un po' di smalto nonostante avesse ancora il possesso palla che il Napoli ha finito la partita con il 65% di possesso palla cioè ha tenuto sempre la palla devo dire che il fatto che non ci sia più Kim è un problema quest'anno è ancora evidenziato ancora una volta perché Kim era un fenomeno e non prendevi gol una cosa è che non riesci a segnare e non prendi gol una cosa è che non riesci a segnare ma prendi gol e la situazione si complica di molto fa la differenza questo molto grande come differenza quindi rispetto all'anno scorso il Napoli quando aveva un po' di difficoltà comunque il gol non lo prendeva e quindi rimaneva sempre la possibilità di vincere la partita perché magari un gol veniva davanti con i fenomeni che hanno se prendi il gol il lavoro si duplica il lavoro che devi fare sia mentale che fisico che di squadra che di coaching si duplica perché devi inizialmente pensare a pareggiare e poi devi pensare a vincere sperando che mentre stai pensando a pareggiare l'avversario non te ne faccia un secondo come è successo perché se hanno fatto al 56esimo un'altra distrazione un'altra palla volante un mezzo di meret e reteguine approfitta e fa 2-0 e quindi il Napoli con sotto di due gol ha dovuto quadruplicare gli sforzi perché il Genoa si è arroccato dietro fra falli fallini fallacci secondo me c'è un rigore su Osiman che viene trattenuto un po' davanti al portiere ma l'arbitro Fabri come se niente fosse ma manco si pone il problema ricordiamoci che Fabri dico ai più incauti Fabri è famoso per il famoso scusate la ripetizione cazzotto in Juventus Napoli di Gatti a a a Valasteia credo mi dite un cazzotto e l'arbitro non vide niente nemmeno il VAR niente di niente manca un giallo nemmeno il fallo quindi diciamo che è un bel trascorso Fabri con il Napoli per sfortuna del Genoa non incontrerete sempre Fabri e quindi finirete le partite in 9 in 10 in 8 poi vedrete e succede che questo continuo continui falli di Dragosin di Sabelli di gente che gioca più a rugby che a calcio ha fatto sì che il Napoli avesse grossi problemi perché poi il Napoli si è affidato e lanciarono i suoi Simen che doveva sgomitare in mezzo a questi due tre picchiatori e la situazione si è fatta molto difficile si è fatta molto difficile finché finché non è uscito Anghissà a cui è affidato un po' il playmaking della squadra e questo è preoccupante perché Anghissà non è un playmaker ma è un interditore un giocatore che gioca bene se c'è qualcun altro che crea il gioco poi è stato Raspadori e ha fatto un golazzo perché poi il Napoli ha fatto due golazzi per pareggiare ieri a Genova dovevi fare due golazzi altrimenti non uscivi col pareggio perché si sono arroccati dietro c'era Fabri con loro con i falli interrompevano anche le situazioni più difficili ne dico una di situazioni dopo il 2 a 2 perché poi ha fatto un golazzo politano dopo il 2 a 2 Garzia ha messo Zerbin Alessio Zerbin sulla sinistra posso arrivare a stare a forte questo Alessio Zerbin al 92esimo Zerbin recupera una palla su Malinowski pulita ed erano già 4 contro 3 4 del Napoli 4 contro 3 del Genoa libero sulla sinistra Fabri fischia perché vede un fallo che non c'era non esisteva quel fallo perché Zerbin va sulla palla e non tocca Malinowski situazione difficile Fabri subito fischietto quella è una situazione esemplare che spiega quello che voglio dire andatevi a rivedere quella palla al 92esimo di Zerbin che in controllo di palla Malinowski lo va ad attaccare gli ruba palla poteva tranquillamente fare quello che voleva metterla con cross in mezzo o tirare no l'arbitro fischia interrompe tutto i giocatori del Napoli protestano poco perché sono superiori sono dei campioni pensano ad altro giustamente non stanno lì a litigare con Dragosino Sabelli di turno prendono un punto però deve far respirare questo fatto che siano riusciti a prendere un pareggio che ieri è diventato quasi ispirato altra cosa importante per i vari detrattori del Napoli che ora si stanno disperando perché vogliono vedere sempre e manca Kim non è un dettaglio Kim è stato preso dalla Bayern Monaco non dalla squadra di mio cugino quindi vuol dire che il signorino Kim era forte non ti faceva prendere gol e ripeto una cosa è non prendere un gol una cosa è quando hai difficoltà segnare non prendere gol una cosa è quando hai difficoltà segnare prenderlo e si complica tutto devi fare il doppio il triplo sforzo mentale fisico e tattico e di squadra e tecnico perché poi sono serviti due gollazzi strepitosi perché ieri Raspadori ha fatto un gollazzo di sinistro credo sia adesso Raspadori dal limite quasi e Politano ha fatto un gol al volo di sinistra che io non ho mai visto fare un gol del genere a Politano nella sua carriera quindi Napoli per uscire col pareggio ieri ha dovuto veramente uscire fuori le unghie e i gol sono arrivati dalla panchina quindi voi che criticate Garzia Garzia ha inciso sulla gara ieri perché i gol sono arrivati da Politano e Raspadori che sono entrati dalla panchina ok e Zerbin al 92esimo è entrato bene Zerbin quindi Varastea si lamenta ma Zerbin all'89esimo se l'ha metato Varastea l'ha messo all'89esimo Zerbin stava facendo veramente bene quindi il titolo di questo video sarà Fabri aiuta il Genoa in Napoli esce fuori con due gollazzi esce con un punto con due gollazzi vediamo fatemi sapere cosa ne pensate iscrivetevi al canale di BellaV un like se vi è piaciuto il video alla prossima cheers